Via! Via! Guarda la volta eh! Io fanno arrivare l'oltre, ti asciughe eh! Guarda che arriva adesso! Arriva adesso! Piscina, vedi? Oh! Guarda! Io fanno arrivare! Guarda che vieni qua eh! Oii! Passi indietro! Passi indietro! Oii! No, 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 no! Sì sì sì! No, 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 no! Sì sì sì! Oh ragazzi! Dai ragazzi! Vieni indietro! Vieni indietro! Vieni indietro! Vieni indietro! Vieni indietro! Vieni indietro! Mi arriva ancora eh! Vediamo a sapere ci sarà il titulio eh! Ti fai cambiato il burro! Ti fai cambiato il burro! Eh? Ti fai cambiato il burro! Ti fai cambiato il burro! Ti scende eh! Ma per quanto è la pomola che c'è la patta? Non si fa giù! No, no, no! Beh! Mie camicia in da là, sono da si e ti fa subito! Mi farei! Grazie.